Il Notaresco vince 1-0 il derby della 22esima giornata contro un Avezzano irriconoscibile nella prima parte di Contesa a decidere una grandissima rete di scipioni nel primo tempo. Ma partiamo dall'inizio, la posizione di classifica tranquilla permette al Notaresco di affrontare la sfida con spensieratezza. L'obiettivo dei ragazzi di Mister Bruno è comunque quello di riscattare la sconfitta di Tivoli e tornare a marciare nella comfort zone del Savini. Recuperato ma ancora out di Bartolo, panchina per Bonfiglio e Francofonte. L'Avezzano deve fare i conti con il rendimento lontano dal De Marsi. Nonostante i biancoverdi non vincano in trasferta dal 10 dicembre scorso, la vetta è distante solo tre lunghezze. Vietato non provarci dunque per Ferazzoli che ripropone il tandem Roberti-Tuncarà, Onazzi si aggiunge alla lista degli indisponibili, composta da Verna e Ferrani, mentre Marzuillo è stato fermato dal giudice sportivo. Riposo in settimana per Damceschi che recupera da alcuni acciacchi, panchina invece per Iuri Senesi. Dirige Virgilio Di Agrigento. Il ritmo è gradevole ma il notaresco è più spigliato e soffoca l'Avezzano per tutta la prima frazione. Timide proteste al quinto minuto quando il direttore di gara segna un corner in favore dei padroni di casa, che però rivendicano un intervento falloso ai danni di Marrancone. La decisione viene comunque accettata senza particolari problemi. All'undicesimo ottimo schema da calcio di punizione, Casella in acrobazia scarica in rete, ma il primo assistente, Bosco di Roma 2, alza la bandierina per segnalare la posizione di offside. Altro episodio da Moviola al venticinquesimo, quando finisce a terra Pietrantoni all'interno dell'area. Virgilio lascia correre. Un minuto più tardi, brusca e miracolosa, sull'incornata da due passi di Scipioni, dopo la spizzata di Marrancone. Passata la mezz'ora, la gara svolta. Al trentaquattresimo, Casella in buca per Marrancone, che si aggiusta alla sfera ma calcia debole. A fine azione, uno scontento Ferazzoli cambia due pedine. De Lorenzo e soprattutto Tuncara vengono rimpiazzati da Goli e De Silvestro. I due non hanno nemmeno il tempo di mettere i piedi sul terreno di gioco che Scipioni inventa. Un gol bellissimo. Dalla lunghissima distanza libera la conclusione che termina la corsa sotto l'incrocio. Nulla da fare per brusca. Poco prima dell'intervallo ancora proteste. Dopo Pietrantoni finisce a terra Scipioni. Virgilio invita il numero 10 a rialzarsi. Prima di mandare le due squadre a riposo. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla ripresa che vede un Avezzano per forza di cose diverso. De Silvestro dialoga con Roberti ma conclude debole e centrale. Blocca Curtosi. Al quarto d'ora Forte si invola sulla sinistra ma non trova lo specchio. Sessa sorte per la conclusione di De Silvestro 30 secondi più tardi. Il numero 20 però va vicino all'incrocio. Al venticinquesimo un'occasione per parte. Azione personale di Casella che avanza fino al limite dell'area ma la conclusione termina sul fondo. Sull'altro versante Mascella Pennella per l'incornata debole centrale di Roberti. A dieci minuti dal termine Senesi prova a suonare la carica con un tentativo dalla lunga distanza che termina oltre la traversa. Nel finale non accade più nulla. Notaresco batte Avezzano 1 a 0. A fine gara mister Ferrazzoli annuncia le dimissioni.